Musica Bella ragazzi e benvenuti in questo primo appuntamento delle skill di Longwolf92 su FIFA 15 Ovviamente questa serie partirà dalle skill più facili fino ad arrivare a quelle più difficili Certo farò sempre quelle che sono un pochino più utili perché quelle tra virgolette inutili non servono quindi non le farò nemmeno vedere Però ovviamente partiremo dalle skill di 2 stelle fino ad arrivare alle skill di 5 stelle Ho deciso di fare questa serie per darvi una mano Magari c'è chi è più pigro quindi non ha voglia di cercare o di mettersi lì magari a provare con i tasti o le finte Insomma tutte queste combinazioni di tasti che alcune diciamo sono abbastanza difficili Le altre invece sembrano più difficili di quanto siano Ma allora andiamo subito a scoprire queste skill da 2 stelle E allora ragazzi la prima è la finta di corpo o verso destra o verso sinistra È molto semplice basta rimanere fermi e dare un semplice tocco nella direzione che si vuole per fare questa finta Quindi semplicemente da un lato Poi c'è il doppio verso verso destra e ovviamente sempre verso sinistra Va fatto con un giro di 90 gradi dell'analogico dall'alto verso il basso Sempre in base alla direzione se sinistra o se destra ovviamente Nel momento in cui siete riusciti comunque a capire in maniera veloce come si fa Potrete riuscire a farlo come lo fa Ronaldo dell'Inter intendo Infatti come vedete a video E poi abbiamo il doppio passo al contrario sia a destra che a sinistra Che sarebbe il giro di 90 gradi al contrario di quello di prima Quindi dal basso verso l'altro Dopo questo abbiamo trascina palla con la suola verso sinistra e verso destra È molto semplice bisogna mantenere la direzione da fermi dell'analogico o a destra o a sinistra Analogico sempre destro ovviamente E l'ultimo è trascina la palla da fermo Cioè cliccate R2 più l'analogico sinistro verso indietro